Che tipo di giocatore è? Un giocatore che possiamo così paragonare all'Edesma, nel senso che probabilmente è molto più forte dell'Edesma in fase difensiva. È un giocatore che è un tampone, il classico tampone di centrocampo davanti all'area, quindi sa fare molto bene la fase difensiva con i piedi, sulle palle alte, ma anche uno che ha un piedino discreto per poter ricominciare l'azione.